Bella a tutti ragazzi, sono Orgasmic e sono qui con un nuovo episodio di Bestie Nascoste e è un episodio speciale perché troviamo tra i giocatori di oggi un giocatore in particolare che ha fatto, secondo me, parte della storia di questo canale e quindi direi di cominciare subito intanto dicendo che se questo video raggiunge i 400 mi piace almeno 400 mi piace visto che comunque il lavoro da fare con questi video è parecchio lungo uscirà ovviamente un nuovo episodio e lasciate un commento scrivendomi qualche giocatore che mi consigliate comunque partiamo subito senza perderci in chiacchiere con il primo giocatore, quello ovviamente speciale che è quello bronzo e stiamo parlando di David Templeton che adesso ci vediamo subito qualche clip chi è un veterano di questo canale cioè che vedeva i video di FIFA 13 è stato il primo giocatore che io ho trattato in Bestie Nascoste di FIFA 13 che poi non ho fatto purtroppo nel 14 comunque se c'è qualche veterano ripeto lo scrivano nei commenti così per vedere se c'è ancora qualcuno della vecchia scuola che mi sta ancora seguendo mi farebbe molto piacere comunque parlando più nello specifico Templeton è un giocatore secondo me devastante è sempre stato argento da FIFA 12 a FIFA 14 ed era una bestia anche d'argento con statistiche super nascoste adesso è stato da un gredato a bronzo ma è un bronzo veramente devastante dotato di un'ottima velocità un ottimo tiro come comunque è sempre stato anche se non ha particolari potenza tiro o long shot non sono così alti però comunque sia sembra che abbia veramente un cannone e segna sempre anche perché ha una discreta finalizzazione per essere un ala comunque un esterno lui però ha work rate alto basso quindi è perfetto da ala purtroppo gioca in Scozia 2 quindi può fare link verde solamente con i giocatori dei rangers e non è molto semplice però comunque sia qualcosa si riesce a fare vi faccio vedere ovviamente nella descrizione la squadra comunque in cui l'ho utilizzato è veramente un giocatore formidabile che vi consiglio di provare anche perché non costa niente andiamo con il giocatore argento di oggi anche esso ragazzi davvero una bestia clamorosa i giocatori di oggi sono veramente tutte e tre delle best incredibili stiamo parlando di pedro pablo hernandez ecco qui ci vediamo subito qualche clip è un giocatore come potete vedere dall'immagine dotato di una velocità pazzesca 82 ma la peculiarità è che questo giocatore è anche alto un 85 quindi uno alto così con una buona forza fisica come la sua è una velocità tremenda come 88 per forza una bestia nascosta deve esserlo mi sorprende non vederlo quasi mai online perché questo giocatore è veramente un top player secondo me è velocissimo con un ottimo tiro anche se non ha un long shot prettamente fortissimo però riesce comunque gli riescono molto bene i tiri dalla distanza un'ottima finalizzazione per essere comunque lui sarebbe un trequartista io l'ho utilizzato da attaccante ha una finalizzazione molto alta un posizionamento molto molto buono ha anche un work rate perfetto per un attaccante quindi non si può chiedere di meglio da questo giocatore ha anche 4 stelle abilità quindi diventa proprio secondo me uno degli attaccanti perfetti di questo gioco perché si riesce a fare praticamente tutto con lui dalle skill alle grandi discese che ne so in contropiede o a fare grandissimi gol dalla distanza davvero un giocatore secondo me perfetto da provare vi faccio vedere ovviamente in descrizione la squadra con cui l'ho usato davvero vi consiglio di provare questo giocatore non l'ho pagato tanto ma secondo me merita davvero tantissimo di essere provato almeno una volta perché è una bestia nascostissima quindi finito con bronzo e oro ci concentriamo con il giocatore oro ed è un giocatore ragazzi che io non vedo mai online stiamo parlando di germain defoe eccolo qui ci vediamo subito qualche clip un giocatore ragazzi secondo me proprio sottovalutatissimo al 100% un giocatore che io comunque avevo utilizzato negli anni passati per esempio in fifa 13 non so se qualcuno seguiva la serie baylor road to tottenham lui giocava in attacco nel tottenham e faceva veramente una valanga di gol quest'anno l'ho voluto provare perché secondo me ha delle statistiche davvero altissime soprattutto 85 di tiro che non si vede spesso in un 80 di come dire di valutazione con poi comunque un 83 di velocità molto molto buono è un giocatore che ha work rate medio medio ma non sembra vi spiego meglio sembra che abbia alto perché è sempre sulla linea dei difensori pronto per diciamo battere la trappola del fuorigioco anche se non è tra le sue specialità comunque sembra appunto che sia sempre lì grazie anche al suo altissimo posizionamento per fare gol inoltre ha un ottimo tiro ha un tiro dalla distanza molto buono anche se non l'ho sfruttato perché ripeto era sempre in attacco ma soprattutto ha una finalizzazione altissima se non sbaglio di 87 che è veramente una statistica altissima se consideriamo che questo è un giocatore valutato 80 vi consiglio di provarlo ragazzi anche lui perché è piccolino ma è letale questo giocatore non costa niente tipo 800 crediti quindi se lo può permettere chiunque vi consiglio ripeto di provarlo perché non ve ne pentirete assolutamente ragazzi i giocatori di oggi erano questi spero vi siano piaciuti come sempre io vi invito a lasciare un bel like a 400 minimo uscirà poi successivamente un nuovo episodio questo era l'episodio 10 quindi già un buon traguardo per questa serie spero che vi stia piacendo lasciatemi un commento consigliandomi tutti i giocatori che voi ritenete bestie nascoste soprattutto ecco adesso vi chiedo qualche bronzo perché non è facilissimo trovarli no ma comunque sia bronzo che argento che oro iscrivetevi al canale pagina facebook twitter instagram tutti i link come sempre li trovate in descrizione noi ci vediamo al prossimo video bella raga bella raga